Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Come vi ho detto dal titolo, questa sarà una skin care un po' particolare, anche perché ultimamente ho una valuta un po' particolare, quindi dobbiamo andare a utilizzare dei prodotti specifici e mirati per ricostituire tutto quanto il nostro visetto. Quindi vi farò vedere appunto questa skin care che io faccio proprio in casi estremi, però alcuni passaggi sono quelli che io utilizzo quasi giornalmente. E io direi di iniziare subito struccandoci, prima di tutto vi metto qualcosa per bloccare i capelli e logicamente metto il mio solito cerchiettino, questo qui. Ok, una volta che ci siamo messe comode, possiamo appunto andare a struccarci. Io come sapete la maggior parte delle volte utilizzo l'acqua micellare, a meno che non abbia cose strane sul viso, ma oggi ho un trucco abbastanza normale, quindi vado ad usare quella. La vado a passare prima sugli occhi, così mi tolgo il pensiero, che è la parte, almeno per me, un pochino più rognosa. Una volta poi che ho finito gli occhi, passare il sopracciglio e il prodotto labbra. Questo per toglierlo faremo un po' più di fatica. Infatti, visto che non si è tolto tutto, vado con una sorta di crema struccante, un misto tra olio di cocco e struccante. Lo prendo in questo modo, lo massaggio un po' per scaldarlo e mi vado a struccare tutto il viso e le labbra. Questo è il risultato. Fatto ciò, o con una salvezza struccante o con l'acqua leggermente tiepida, come faccio io, vado a togliere tutto l'eccesso, vado ad asciugare, però lo vado a lasciare leggermente umidino, perché adesso vedrete cosa va da passare, cioè lo scrub. Io adesso qua ne ho tre molto speciali. Questi qua sono di L'Oreal, si chiamano Sugar Scrub. Ce ne sono tre perché ognuna ha una sua funzione che adesso vi andrò a spiegare. Allora, innanzitutto partiamo dalle basi. Perché è importante lo scrub? Spero che almeno qualcuno di voi lo sappia, per se siete quelli che non lo sanno ve lo spiego. È importante perché uno, permette una pulizia profonda, dato che con tutti i granulini dello scrub andiamo a togliere le cellule morte, quindi il prodotto penetra meglio e l'azione è più veloce, più istantanea. Quindi favoriamo il rinnovamento cellulare e in più illuminiamo la pelle. Quindi per far sì che il prodotto sia giusto per il nostro tipo di pelle, L'Oreal ha pensato appunto di farne tre. Il primo è questo qua verde che è al kiwi, infatti se vedete all'interno ho proprio i semini. Questo infatti è per pelle miste e impure, ha un'azione purificante e anti punti neri. Quindi andrò a metterle in zone specifiche del viso. Poi abbiamo questa, che è un'altra delle mie preferite, che è invece all'uva. Infatti la sua azione permette di levigare la pelle e renderla subito più luminosa. E poi abbiamo questa, che sono sicura ve ne innamorerete subito, che è quella al cacao. Questa qui infatti è per pelle secca e con macchie, e la sua funzione è quella di lenire e nutrire la pelle. Inoltre la cosa bellissima di questi scrub è che sono composti praticamente da tutti ingredienti naturali, tra cui tre diversi tipi di zucchero, ecco perché il nome è sugar scrub. Infatti abbiamo lo zucchero grezzo, zucchero bianco e zucchero di canna. Vi do qualche piccola chicca. Io lo applico all'incirca fino a tre volte a settimana, perché comunque uno scrub è super delicato. Sia sul viso, sia sulle labbra. Questo è anche un'altra chicchetta, perché almeno vi evitate di comprare troppi prodotti. E lo applico, lo massaggio con movimenti circolari, come poi vedrete andrò a fare. Quindi inizio applicando questo al kiwi sulle zone più grasse del mio viso, quindi tutta la zona T. Vado a prenderlo, prima lo applico e poi lo vado a massaggiare. Poi prendo invece questa all'uva, che abbiamo detto illuminante, quindi lo vado a mettere nelle zone qua esterne del viso. Questo non potete capire che odore, meraviglioso. E quella al cagà invece la andiamo a mettere sulle zone secche del mio viso, che sono queste qui. Praticamente quelle che ho lasciato libere. Fatto questo, quindi inizio appunto con movimenti circolari. Come vedete faccio con due dita questi movimenti così. Lo massaggio per benino, perché devo comunque dargli il tempo di agire. Passo qua sul mento, bene sul naso, che è una delle mie zone più problematiche. Tra l'altro sono curiosissima di sapere se voi avete mai provato questi scrub in generale. E se non l'avete mai provato, ragazzi, vi perdete il mondo. In più mi ringrazierete. Sono sicurissima al 100%. Infatti se volete comprare questi prodotti, che vi dico hanno un rapporto qualità-prezzo favolosi, trovate il link diretto qua sotto in info box per l'acquisto su Amazon. Così evitate anche di farvi giri inutili per negozi. E magari poi non li trovate. Quindi, mi raccomando, sono curiosa di sapere anche il vostro feedback. Una volta massaggiato bene il prodotto, io qua ho una miriade di sapori sul viso incredibili, vado con una spugnettina di questo tipo, con acqua sempre tiepida, a rimuovere tutto l'eccesso. Un'altra delle cose bellissime di questi scrub è che l'effetto lo sentite subito, proprio a tatto. Mentre poi nel corso del tempo, utilizzandolo, vedete proprio anche gli effetti visivi. Tolti tutti gli eccessi, tampono. Mi vado a bagnare leggermente le labbra, perché io faccio prima il viso e poi le labbra separati. Almeno mi godo di più questo rituale. E con questo qui al cacao vado. Finito anche con lo scrub le labbra, risciacquo. E andiamo a finire la nostra skincare routine. In questo caso abbiamo due opzioni. O mettere una maschera su tutto il viso, dove magari prima andiamo a mettere un siero così si assorben bene. Oppure, come faccio io, che è la soluzione più veloce e un po' più da pigri, vado a mettere direttamente dei patch sotto gli occhi, così togliamo quest'aria affaticata. Ok, patch 1 e patch 2. Questi devono rimanere per 15 minuti. Quindi nel mentre io mi vado a bere un bel tema, un bel tisana. E ci rivediamo una volta passato il tempo. Passati i 15 minuti, nel mentre vado a mettere un pochino di buro cacao. Così intanto agisce. Tolgo i miei patch. E vado leggermente a massaggiare il liquidino che rimane. Se questo tipo di trattamento lo fate prima di andare a letto, non potete capire come dormite. È una meraviglia. Tutti questi massaggini che ci facciamo. Fatto ciò, terminiamo con la crema viso. Io ne utilizzo una, naturalmente, per pelli miste. Voi usate sempre la crema adatta al vostro tipo di pelle. Ne metto una noce. La vado a spalmare sulle mani. E anche qui andiamo a fare una sorta di massaggino. E una volta che sia tutta bella assorbita, andiamo invece col contorno occhi. Che è una cosa che non faccio sempre. Però abbiamo messo i patch, abbiamo avuto lo scrub. Finiamo in bellezza. Quindi tampono leggermente un pochino di crema. Tamponando la faccio assorbire. Fatto questo, la nostra skin care è conclusa. E vi posso assicurare che se seguite questi passaggi, passo per passo, avrete una pelle assurda. Sia per quanto riguarda la texture che, appunto, visivamente. Mi raccomando, ragazzi e ragazzi, è importantissimo prendersi cura della pelle. Soprattutto quella del viso. Curarla, pulirla, detergerla bene, appunto, con lo scrub, come vi ho fatto vedere. Creme, maschere, sieri. Che più ne ha, più ne metta. Quindi io spero che questo mio video, skin care di salvataggio, chiamiamola un po' così, per le situazioni estreme, vi sia piaciuta, vi possa essere utile. Mi raccomando, fatemi sapere tutto nei commentini se avete qualsiasi domanda sui prodotti. Se, appunto, li avete mai provati, come vi siete trovate. Vi ripeto, trovate il link per l'acquisto nell'info box. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Ciao!